Salve e benvenuti ad un nuovo video di Rosenberg e Rosy. Mi chiamo Slavko Mucic, questo è il mio collega Martin Lucas. Martin, tu sei responsabile di processo nell'area assistenza. Di cosa ti occupi esattamente? Sono responsabile dell'area assistenza di Rosenberg e Rosy. Offriamo ai nostri clienti molti servizi nell'ambiente del data center. Si tratta principalmente della progettazione, della costruzione, ma anche del funzionamento dell'infrastruttura nel data center. Sembra interessante? Sì, adottiamo un approccio listico per i nostri clienti. Capisco. Martin, di recente ho avuto l'occasione di scambiare opinioni con il nostro collega Mattias Radanz sui requisiti delle BSI sulle infrastrutture critiche. Al momento molte aziende stanno decidendo di ristrutturare la propria infrastruttura IT. Vale a dire trasferire parti nel cloud, mantenerle on-premises o esternizzarle in co-location. Esatto. In che modo sosteniamo le aziende a tal proposito? Questo è un momento molto emozionante. Ogni azienda si sta ponendo la domanda, come posso rendere la mia infrastruttura IT a prova di futuro? Cosa devo fare in particolare per garantire che la mia infrastruttura sia prova di futuro? A tal proposito, entriamo in gioco noi con i nostri servizi di consulenza. Esaminiamo le diverse possibilità insieme ai nostri clienti. come hai fatto tu. Esistono diverse opzioni. C'è il cloud, da cui ovviamente ogni cliente desidera trarre il massimo beneficio. Tutti devono tuttavia essere consapevoli che c'è sempre una determinata parte dell'azienda o delitti che per vari motivi deve rimanere on-premises. Questo significa che esaminate in modo specifico le applicazioni nell'IT e consigliate al cliente cosa deve rimanere in azienda, cioè on-premises, e cosa va trasferito nel cloud? Esatto. Questo è il nostro approccio. Significa che insieme al nostro cliente procediamo ad una fase di analisi della sua struttura. Analizziamo le sue applicazioni, i suoi processi e l'ambiente del suo insieme. In altre parole, un business case completo del nostro cliente. Si tratta dunque di un approccio listico. Quindi una site survey, cioè un'analisi che considera l'intero sistema. Esatto. Questo chiarisce quali aspetti possono essere trasferiti in cloud e quali è meglio mantenere on-premises. Il passo successivo consiste nel valutare insieme al cliente come gestire la parte che sarà mantenuta on-premises. A tale scopo, creiamo concetti individuali. Le domande sono il data center attuale del cliente è ancora up-to-date? va eventualmente rivitalizzato? È eventualmente prevista una nuova costruzione? Il trasferimento ad un data center di collocation può eventualmente rappresentare un'opzione? Sono tutti concetti diversi che valutiamo insieme al cliente. Ciò significa che non esiste un modello in questo senso. La valutazione avviene individualmente per ogni cliente? Esatto. In questo senso un modello o altro non sono che le condizioni generali che rimangono valide e derivano ad esempio dal BSI, dal Tuvit o dalle norme. Ok. Su queste basi sviluppiamo una strategia specifica per ogni cliente. Capisco. Un argomento interessante. Molto grazie per il tuo approfondimento. Spero che anche gli spettatori abbiano imparato qualcosa. Ci rivediamo nel prossimo video. Grazie mille. Ciao. Arrivederci.